Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per incidente con tendenza all'aumento tra BV1 Variante e Aglio in direzione nord. Caraggiotto opposto a 1 km di coda per lavori tra Sasso Marconi e BV1 Variante, sempre in A1 per traffico, rallentamenti verso Roma tra Firenze e Sud e in Cisareggello. Ci spostiamo in A11, 1 km di coda per incidente tra BV11 raccordo a 12 Genova-Rosignano e BV11 raccordo Lucca-Viareggio. Ci troviamo nella carreggiata verso Firenze. Si mantiene regolare il traffico in Fipili dove segnaliamo vento forte tra Pisa Centro e l'allacciamento con l'Aurelia. Raccomandiamo particolare attenzione alla guida di mezzi terronati e caravan. Per salutarci per il traffico ferroviario ricordiamo che fino alle 17 è in corso uno sciopero del personale ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Oversi in Toscana e Nipio è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!